Gli obiettivi della fiera sono sempre quelli di portare avanti la conoscenza, la presentazione della fotografia e dei video nel miglior modo possibile con dei temi anche di carattere didattico che cerchiamo di tenere alti sempre. Quest'anno ci sono delle particolari novità che sono rappresentate dal codice MIA che è una struttura che abbiamo organizzato per dare modo a 45 autori middle career selezionati dal nostro comitato scientifico di poter proporre le loro opere a dei lettori di portfoglio che abbiamo invitato. Una cosa nuova è l'angolo del collezionista, mi sono messo praticamente nelle vesti quali sono, cioè il collezionista di cosa mi sarebbe piaciuto trovare in una fiera. Ho presentato anche una ventina di libri che sono secondo me i libri fondamentali che un collezionista, un gallerista e un artista devono sapere, libri basici e poi ci sono il solito modo di fare la fiera che è il format che ci caratterizza, che è unico al mondo, uno stand per ogni autore, ogni autore un catalogo che permette ai visitatori di poter raccogliere quei 20, 30, 40 cataloghi e uscire dalla fiera con una memoria precedente di quello che hanno visto. La dimensione internazionale cerchiamo di puntarci sempre, purtroppo il nostro problema è quello di essere facenti parte dell'Europa e dove la congiuntura non è certo favorevole. Abbiamo anche contemporaneamente deciso di portare la nostra fiera l'anno prossimo, a ottobre, in Asia, esattamente a Singapore. Ci piacerebbe che le istituzioni guardassero con molta attenzione, anche perché noi lo sforzo che facciamo annualmente per dare una forma sempre più interessante ai nostri espositori, al nostro pubblico è altissimo, quindi lo sforzo è grande e crediamo di farlo bene, quindi ci aspettiamo di raccogliere. Io credo che il MIA sia una delle manifestazioni più importanti della fotografia italiana e estera appunto. Trovo che sia una splendida vetrina per farci conoscere come Nazione, la Galleria Spazio Solferino presenta questo artista, Paolo Nicola Rossini, un fotografo davvero molto capace e valido. Io penso che questa fiera riuscirà a portare nelle case di molti collezionisti la fotografia, cosa che è ancora poco diffusa nel mercato italiano, decisamente più diffusa all'estero. Io sono molto felice e felice di essere parte di MIA, perché è un'attività professionale ed è un'attività professionale, e è un'attività di essere con molti diversi artisti, molti di cui ho visto il lavoro e ho rispettato, e sono orgogliosi di essere qui e di essere parte di questo show. Ho broughtto MIA una serie che mi chiamano Hopper's Americans. È una serie di immagini che ho creato di un pittà di Edward Hopper called Sunlight in an Empty Room, e io buildo tutti i miei seti, creio tutti i miei spazi che vedi, e poi ho fatte con storie. In questo caso, i miei immagini sono storie che non sono chiaramente raccontate. Sono più di un'emotione che di un momento. Per me, MIA è un'opportunità di mostrare il mio lavoro a persone e vedere come reagire a questo. È bello di parlare con altri fotografi, è bello di parlare con molti galleristi. Il mio lavoro non è influenzato dalla tecnologia. Le mie immagini sono le mie immagini. Non dipendono davvero dalla tecnologia per creare le immagini. Le mie immagini sono immagini. Ho usato una camera, ho tirato, ma non è un processo tecnico, non è un processo digitale. Ecco, essere al MIA quest'anno significa potersi confrontare con tutto il panorama della foto che abbiamo in Italia e all'estero, e potersi da gallerista confrontare con altri galleristi e quindi cercare delle strategie migliori per quest'anno a venire. Io quest'anno propongo Fabiano Parisi, è un artista specializzato in foto di mondi abbandonati, di luoghi chiusi dall'essere umano, che lui scopre, ricerca, apre di nascosto. Spesse volte sta dentro due o tre giorni in questi posti per ricercare la luce adatta e fare il suo scatto. Si intitolano tutte le sue foto il mondo che non vedo, cioè vuol dire un mondo chiuso e abbandonato dall'uomo, ma un mondo che ha vissuto, vive e vivrà anche senza la presenza dell'uomo. Questa è la prima volta che partecipo al MIA e devo dire che sono molto piacevolmente impressionato. Partecipare al MIA vuol dire per me, per esempio, che vivo molto chiuso negli studi, anche avere finalmente relazioni, vedere il lavoro degli altri fotografi da vicino, conoscerli, per cui è interessantissimo dal punto di vista, direi, culturale. Credo che per un fotografo giovane il MIA sia un'opportunità straordinaria. È un modo per esporsi in prima persona, raccontare la propria vita, il proprio lavoro, che per un giovane sia una grandissima opportunità. Io ho portato alcune fotografie, diciamo che vanno dagli anni 90 a recentissime, e sono tutte fotografie di moda dalla parte, diciamo, del mio lavoro più nota. Una serie di bianchi e neri fatti per Vanity Fair e invece alcune fotografie degli anni 90, di ritratti, uno di Monica Bellucci, uno di Naomi Campbell, insomma, tutto però lavoro pubblicato. Quello che io penso è che il passaggio da analogico a digitale ha segnato la nascita della fotografia. Quella che è stata fatta prima è già archeologia fotografica. Allora, io amo il movimento che sta nascendo, l'enorme uso di fotografie che viene fatto. La fotografia è vivissima, sta nascendo. Allora, io amo il movimento che sta nascendo, l'enorme uso di fotografie che viene fatto. Allora, io amo il movimento che sta nascendo, l'enorme uso di fotografie che viene fatto. Allora, io amo il movimento che sta nascendo, l'enorme uso di fotografie che viene fatto.